L'ultima volta abbiamo bocciato la possibilità di fare in modo che nel Power si fosse una rivisitazione del Power. Dopodiché abbiamo discusso di tante altre problematiche che sono in sospeso con la multinazionale e che vorremmo che fossero prese in considerazione. Per cui lunedì c'è questo tavolo tecnico al Ministero che riteniamo che sia stato convocato un po' prematuramente perché avremmo voluto portare un po' avanti il discorso con la multinazionale e io prendo atto comunque che sia con la provincia, con il generale e la regione Calabria c'è un modo di vedere che condividiamo, una strada da intraprendere che è condivisibile. Il Presidente come commenta? In questo ultimo incontro abbiamo affrontato un po' più nel merito le questioni che saranno rimesse sul tavolo al Ministero lunedì. Insieme al Sindaco e insieme al Commissario valuteremo con molta attenzione quelli che sono gli approfondimenti che Nereguinde porterà in merito al Pobb Fase 2 dopodiché è chiaro che ci riserveremo di valutare quelli che saranno questi approfondimenti e dopo il confronto con il territorio eventualmente proporre ad Nereguinde insomma quelle che sono le rivendicazioni del territorio stesso.